Eccoci su Sicilia 24, vi ritrovate in nuovo appuntamento con Spazio Notizia, apriamo parlando di calcio, è stato un weekend di calcio, hanno giocato il Catania e il Palermo, Luci e Ombre, bene la squadra rossa-azzurra decisamente male, invece il Palermo che ha perso nuovamente in campionato stavolta in casa, ma partiamo dal Catania che invece ha centrato la terza vittoria su altrettante gare di campionato, nel campionato di Serie D, 2 a 1 sul campo delicata, andiamo a sentire le dichiarazioni post partita di mister Ferraro. Credo che hanno fatto tutti quanti bene, quella è la cosa che bisogna capire in questo campionato è lo spirito delle squadre che poi ci affrontano, le squadre quando ci affrontano ci affrontano con uno spirito diverso, ci affrontano con una crescita diversa e quando perdono il Catania alla fine dicono come se non è successo niente, però ho visto i ragazzi motivati, ho visto ragazzi, i subenti alla panchina hanno fatto bene e soprattutto abbiamo fatto questa vittoria che non è facile vincere su questo campo qua, una squadra che veniva da due sconfitte, non è facile. Abbiamo giocato tre giorni fa, alla fine il gioco, non è facile imporre un gioco su un campo così, forse la ligata qualche anno fa era inferiore come è adesso, una squadra finbando, una squadra giù, una squadra aggressiva, una squadra che gioca bene, l'ho vista le due partite che ha fatto, hanno fatto sempre partite uomo contro uomo, un allenatore coraggioso, alla fine non è facile, voglio dire perché non è, voglio dire il Catania non è che vince perché si chiama Catania, il Catania vince perché bisogna metterci degli ingredienti importanti in campo, i giocatori stanno mettendo con l'applicazione, siamo dal 3 agosto qui, man mano aumenta la nostra famiglia, bisogna gestire il gruppo, bisogna far giocare tutti quanti, bisogna fare i sentiti importanti, cioè non è che una squadra vince perché si chiama Catania, una squadra vince che si chiama Catania, con i giocatori, con l'approccio del pubblico, con la società, con l'annatore, con lo staff, questo era il livello, perché alla fine, voglio dire, guardiamo i punti, vogliamo guardare al gioco, alla fine il Catania ha fatto 3 partite a noi, questa è la cosa più importante, perché guardiamo il punto, vogliamo trovare sempre qualcosa che non va, non va bene, per me, come pensiero, bisogna giocare a questi ragazzi, vogliono stare bene, poi gli dico tutte squadre che giocano con il Catania fanno una partita a ritmo alto, aggressivo, può portarsi la domenica dopo quando non giocano con il Catania e fanno partite in un'altra prestazione per questi, cioè noi dobbiamo essere pronti con lo spirito che abbiamo avuto, sull'1-0 abbiamo, il primo tempo dovevamo fare il 2-0 non l'abbiamo fatto, il secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, un po' troppo e nel momento abbiamo fatto anche il secondo gol, che poi alla fine abbiamo preso quello nel recupero che si poteva pure evitare. Bene dunque, il Catania decisamente peggio, il Palermo che come detto ha perso nuovamente nel campionato di Serie B, stavolta in casa contro il Sud Tirol, sono arrivati i fischi della Barbera, molti tifosi chiedono già l'esonero di Eugenio Corini, ma sentiamo le parole del tecnico Rosanero al termine della partita. Abbiamo regalato qualche situazione che ci ha messo in ulteriori difficoltà, non eravamo lucidissimi, oggi il gioco non era fluido, loro riuscivano sempre a difendere bene e di conseguenza non siamo riusciti a sviluppare la partita che avevamo in testa, nonostante la squadra abbia lavorato, si sia impegnata al massimo, non eravamo nella migliore giornata purtroppo e loro hanno approfittato di questa scarsa lucidità. Penso che questo lavoro di questi 15 giorni è stato fatto in maniera profonda, qualcosa in termini di lucidità oggi abbiamo pagato, ma sono sicuro che nel tempo verrà fuori, c'è da lavorare, prenderci fischi che ci sono stati perché capiamo la delusione dei nostri tifosi, perché la grande delusione è anche nel nostro cuore e capiamo quella dei tifosi, dobbiamo solo lavorare, spingere, perché è una squadra volentosa che non si abbatte, l'ha dimostrato anche oggi in una giornata oggettivamente non bellissima, però come impegno e dedizione ci abbiamo provato sino alla fine e con un pizzico di fortuna si poteva anche pareggiare. Cambiamo argomento, parliamo adesso di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, quindi bollettino che si riferisce alla giornata di ieri domenica 2 ottobre. 1.058 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 8.081 tamponi processati, tasso di positività al 13,1% e Sicilia all'ottavo posto in Italia per contagi. 25.119 gli attuali positivi, 227 invece i nuovi guariti. Non ci sono vittime stavolta, quindi il conto totale dei decessi in Sicilia e dall'inizio della pandemia resta di 12.202. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 186, 5 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 12, in questo caso si tratta dello stesso numero del giorno prima. Per quanto riguarda infine i dati a livello provinciale, Catania, Messina e Palermo, si confermano le tre province con il maggior numero di nuovi casi, rispettivamente 298 a Catania, 244 a Messina, 207 a Palermo. Poi le altre province hanno dati più bassi, Siracusa 105, ma c'è anche Enna con appena 4 nuovi casi Covid. Questi dunque i numeri dell'ultimo bollettino vedremo poi in giornata quali saranno i dati odierni. Cambiamo argomento, torniamo a occuparci del cosiddetto virus delle zanzare e c'è una prima vittima in Sicilia, è infatti deceduto all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, un uomo di 73 anni, di Marsala, il quale si trovava ricoverato da metà agosto dopo essere stato contagiato, come detto dal cosiddetto virus delle zanzare, il West Nile. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante i medici avessero subito intuito si trattasse della febbre del Nilo, anche così viene definita. Poi è stato anche confermato ovviamente dalle analisi. A Ferragosto l'uomo, che non aveva particolari patologie, è stato ricoverato per una insufficienza respiratoria. Poi però le sue condizioni sono precipitate ed è finito in terapia intensiva. Si tratta, come detto, del primo decesso per West Nile in Sicilia. L'uomo abitava a Marsala, in Contrada Cutusio, e in queste settimane, dopo aver rilevato questo caso, l'ASP di Trapani ha disposto dei controlli sugli allevamenti che insistono nel raggio di 3 chilometri dall'abitazione del 73enne. E sono risultati positivi al virus non altre persone, ma due cavalli e un cane. E c'è un altro caso sospetto, sempre su un cavallo, stavolta però ad Alcamo. Restiamo in questo caso nel Trapanese. Un'altra tragica notizia arriva invece da Cefalù, dove un turista tedesco, una 67enne, è morto in mare. Si è sentito male, infatti, mentre si trovava in acqua, mentre stava nuotando. È stato subito soccorso e portato a riva da alcuni bagnanti, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 si sono rivelati inutili. La 67enne, infatti, è deceduto. Sul posto poi sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di fare chiarezza, di ricostruire la situazione, di ricostruire quanto accaduto con la Salma, che è stata poi restituita alla moglie. Ancora cronaca, ci spostiamo adesso nell'Agrigentino, per la precisione, a Sciacca, dove i carabinieri della locale compagnia hanno tratto in arresto un quarantenne saccense, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, infatti, ha aggredito i militari dell'arma, che erano intervenuti in un bar del centro per sedare una rissa tra due ubriachi, e li ha minacciati tentando di colpirli con pugni e calci. Ma non soltanto i carabinieri, all'arrivo dell'ambulanza, infatti, l'esagitato si è scagliato anche contro il personale medico del 118. Dopo le formalità di rito, il quarantenne, su disposizione del magistrato di turno, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sciacca. Da Sciacca a Siracusa, dove i carabinieri della stazione di Siracusa principale hanno arrestato, su ordine dell'autorità giudiziaria, un pregiudicato siracusano di 60 anni, il quale si era reso responsabile di un furto in abitazione commesso a Sortino, quindi sempre nel Siracusano, nel 2014. La condanna era però divenuta esecutiva, pertanto i militari lo hanno rintracciato e accompagnato presso la casa circondariale Cavadonna, così come è stato disposto dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Ed ora a Catania parliamo dei controlli effettuati in questi giorni dai carabinieri, controlli nei locali, ma non solo, e sono scattate diverse sanzioni, tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale di Catania, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto al contrasto all'illegalità diffusa, con particolare attenzione al quartiere di San Berillo. Le attività dei militari si sono quindi concentrate in primo luogo sulle verifiche del rispetto della normativa igienico-sanitaria da parte delle attività commerciali di ristorazione presenti in zona. Al riguardo, all'esito dei controlli, sono scattate le sanzioni amministrative per tre titolari di esercizi commerciali. Si tratta in particolare di un negozio di vendita al dettaglio di generi alimentari, multato poiché aperto dopo le ore 22, di un bar sanzionato per occupazione del suolo pubblico, per avere abusivamente predisposto tavolini e sedie all'esterno della sua attività, e infine di un locale di intrattenimento in zona Piazza Carlo Alberto, che non aveva regolarizzato il volume della musica ed era sprovvisto della relazione fonometrica per l'inquinamento acustico. I carabinieri, con l'impiego di pattuglie dinamiche, hanno poi effettuato diversi posti di controllo per la verifica del rispetto delle norme imposte dal codice della strada, identificando un centinaio di persone e sottoponendo a verifiche una settantina di veicoli. Nella circostanza sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre 9.000 euro, sequestrando amministrativamente cinque motorini. Gli automobilisti controllati sono stati anche sottoposti a controlli mirati alla ricerca di armi e droga. In tale contesto, un giovane è stato trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e, pertanto, è stato segnalato quale assuntore alla locale prefettura. Controlli anche a Paternò, sempre nel Catanese, in questo caso controlli dei carabinieri nelle zone della Movida per il contrasto alla mala Movida. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani paternesi, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le 4 del mattino, in particolare in Via delle Rose e Piazza Santa Barbara, finalizzato al controllo della mala Movida e delle aree urbane, hanno segnalato cinque giovani paternesi poiché trovati in possesso di cinque dosi per complessivi otto grammi di marijuana, contestato 30 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e decurtato complessivamente oltre 40 punti alle patenti, ritirando due documenti di guida e circolazione. Nel medesimo contesto operativo sono state identificate 62 persone, nonché controllati 51 veicoli e cinque esercizi commerciali. Il servizio ha garantito una serata più tranquilla per i residenti, che si sono anche complimentati per l'attività preventiva e di controllo dei militari dell'arma, che hanno evitato il formarsi di gruppi di giovani le cui condotte, sovente, possono di fatto sfociare in azioni di disturbo della serena e regolare fruizione degli spazi pubblici. Atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, con questa accusa è stato arrestato uno stalker a Modica, nella Ragusano. I carabinieri della stazione di Modica nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un 26enne operaio modicano incensurato. Lo stesso da giorni reiterava condotte persecutorie nei confronti dell'ex compagna, madre del loro bambino. La donna, preoccupata per la propria incolumità, si è rivolta ai militari dell'arma, impaurita dall'ennesimo episodio di stalking, ricevendo una risposta pronta ed efficace. In particolare il giovane, già destinatario a febbraio 2022 della misura cautelare del divieto di avvicinamento, ne ignorava le prescrizioni, recandosi spesso presso la scuola del figlio minorenne e pretendendo di accompagnarlo insieme alla madre. In tali frangenti, inoltre, non perdeva occasione di molestare la donna verbalmente, incolpandola della fine della loro relazione e dell'avere ingenerato nel proprio figlio uno stato di malessere dovuto alla relazione sentimentale della vittima col nuovo compagno. Tutto ciò aveva portato a uno stato di fondato timore nella persona offesa, la quale, per paura di ulteriori e più gravi incursioni da parte dell'uomo, aveva cambiato le proprie abitudini di vita, vedendosi costretta a chiedere di essere accompagnata presso l'istituto scolastico dalla madre o dal compagno. L'intervento dei carabinieri ha consentito di cristallizzare l'ennesima condotta molesta e vessatoria da parte del giovane e di arrestarlo in flagranza per i reati di atti persecutori e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo, a seguito della convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Ragusa, è stato posto agli arresti domiciliari. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui per il momento è tutto, ma ovviamente ci ritroviamo più tardi, come sempre, su Sicilia24. A dopo. Grazie a tutti.